Buona notte. Non sono mai stato così stanco. Dormirei per settimane, anzi mesi. Non sono mai stata così sveglia. Chissà cosa fa Orso. Non vedo l'ora di dormire. 3, 2, 1, oh sì. Orso, sono io Anatra. Apri su forza. Che c'è Anatra? Dormivo così bene? Mi annoio. Facciamo qualcosa? Giochiamo a carte? No. Guardiamo un film? No. Suoniamo? No. Facciamo un frappé? No. Chiacchieriamo? No. Giochiamo a carte? L'hai già detto? Leggiamo ad alta voce? No. Bene. Buona notte. Uh, uh, ok. Ah, il mio lettuccio. Ecco che mi addormento. Psst, Orso, sono Anatra. La tua vicina. Che c'è? Voglio fare dei biscotti. Hai dello zucchero? No. Burro? No. Farina? No. Sale? No. Burro? L'hai già detto. Allora mi dai qualche biscotto già fatto? No. Buonanotte. Che scocciatrice, quell'anatra. Devo trovarmi dei nuovi vicini. Ma adesso sono troppo stanco. Devo dormire. Ma come? Ma come? Con la copia della chiave. Ma è per emergenza. Questa è un'emergenza. Che c'è? Che c'è, Anatra? Qual è l'emergenza? Ho sbattuto il becco. Vedi? Anatra, devi smetterlo di svegliarmi. Via ora. Ma? Ho detto buonanotte. Uff, orso è proprio scorbutico. Quel suo caratteraccio mi fa stancare. C'era una volta in un regno. In un regno. Non sono mai stato così sveglio. Fine.